Ma se ti dicessi che questo accessorio ti aiuta a dimagrire? Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Un nuovo accessorio vi porto sul canale di Casa Show Me che mi ha aiutato nell'ultimo periodo in un progettino molto particolare. Ho deciso di rimettermi in forma grazie a lui. Lo vedremo meglio in questo video, ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Ve lo faccio vedere meglio nel dettaglio. Qua abbiamo l'anteprima del nostro accessorio, logo Xiaomi, sfondo bianco in verde, Xiaomi Smart Band 8. Un accessorio innovativo per il nuovo Smart Band nella sua versione 8. Per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici e lo andiamo a unboxare. Lo andiamo a tirare fuori. Qua abbiamo un libricino, tutto chiaramente in cinese, ancora la versione europea non è presente sul mercato. E qua abbiamo... La scritta attiva Windows non vi fa dormire la notte? Ma niente paura, vi viene in aiuto il vostro LoreTech. Attraverso KISFAN potete acquistare chiavi di Windows 10, Windows 11 o pacchetti di Office a prezzi veramente scontati. Vi faccio vedere un po' di esempi. Office 2021 Professional, una chiave a meno di 30 euro, a soli i 27,75. Inserendo il mio codice sconto, l'ore 62, Windows 10 Professional a 8,78, Windows 11 Professional a 13,31. Una volta scelta la vostra chiave, aggiungete a carrello, inserite il mio codice sconto l'ore 50 e andiamo a inserire la nostra chiave. Clicchiamo su attiva, Windows è attivo. Semplice, pratico e veloce, tutto in pochi clic. Il nostro accessorio. Molto bella questa colorazione verde fluo. Vediamo cosa c'è qui. Contenuta. Ok, questa parte per disattivare magari i sensori. Dopo la vedremo meglio. Ecco, si presenti in questo modo. Ecco, qui abbiamo questa molla. Ecco, per poter sganciare e ancorare saldamente il nostro accessorio. E qui abbiamo il brand Xiaomi. Andiamo subito a provarlo. I cinturini rispetto alle altre versioni sono cambiate. Bisogna premere su questo pulsante per andare a sganciare il cinturino. Lo andiamo a inserire in questo modo qui. E il gioco è fatto. Vi starete chiedendo, sì, ma come funziona? Ve lo mostro subito. La mia scarpa da tennis che si matcha perfettamente con la colorazione. Andiamo a premere il tasto e andiamo a inserire il nostro Mi Band. Andiamo a chiudere. E il gioco è fatto. Potete farlo sia da scarpa slacciata che anche allacciata. Perfettamente ancorato. Ma direi di andarlo a provare subito. Ma direi di andarlo a provare subito. Grazie a tutti.